Ciao ragazzi, ben ritrovati! Oggi torniamo a parlare di torce perché Liz, la mia referente di WowTuck e TrueNight, mi ha mandato un altro paio di esemplari che voglio assolutamente mostrarvi perché secondo me sono molto interessanti. Liz mi chiedeva se in Italia c'è interesse verso le mini torce, le cosiddette torce da EDC. E io ho detto caspita se c'è interesse. Per chi non lo sapesse, lo spiego veramente al volo, EDC sta per Everyday Carry. L'Everyday Carry è un set generalmente molto ridotto di oggetti che si portano con sé ogni giorno e che possono essere utili sia sul lavoro sia in una molteplicità di situazioni. Si tratta di un set molto compatto perché si porta proprio addosso, in una pouch, alla cintura, in tasca, in modo da averlo sempre a portata di mano. Gli oggetti che compongono un EDC devono essere quindi piccoli, compatti e occupare poco spazio. Anche chi fa escursioni, chi si muove all'aria aperta, porta con sé un EDC, che in quel caso si configura più come una sorta di kit di emergenza, composto da attrezzi utili nel caso ci trovassimo nei guai. I due esemplari a cui facevo riferimento prima sono la W1 di WowTac e la T1 di TrueNight. Sono due mini torce estremamente compatte e quindi adatte ad essere inserite in un kit minimale. Adesso le vediamo nel dettaglio e facciamo un rapido confronto. Il contenuto della confezione è essenziale in entrambi i casi. Per quanto riguarda la W1 abbiamo la torcia, la clip di aggancio che è doppia, in modo tale da poterla attaccare nei due versi, quindi ad esempio la visiera di un cappello per farla diventare una frontale, cavo USB per la ricarica, solita bustina con o-ring e cappuccio USB di ricambio. La confezione della TrueNight è leggermente più ricca perché oltre alle stesse identiche cose già viste per la WowTac, qui in più abbiamo questa mini tracolla. Entrambe le torce sono realizzate in lega di alluminio, sono completamente impermeabili, lo standard è IPX8, entrambe resistenti a legature fino a 1,5 metri di altezza ed entrambe hanno il magnete. Le differenze tra queste due torce arrivano quando cominciamo a parlare di batteria. Infatti la W1 è alimentata da una batteria da 650 mAh, mentre il corpo della TrueNight è sensibilmente più grande perché deve contenere al suo interno una batteria da 1100 mAh, quindi quasi il doppio. Tutto ciò si riflette ovviamente sulla potenza massima che è di 562 lumen per la W1 di WowTac, mentre arriva fino a 1500 lumen per la T1 di TrueNight. Mi sarebbe piaciuto mostrarvi il funzionamento delle torce in una location appropriata, però qui nel Lazio purtroppo ci sono ancora delle limitazioni agli spostamenti. Chi mi segue abitualmente sa che mi piace andare a provare le torce a LED nelle gallerie, nei cunicoli, nelle tombe drusche, che purtroppo stanno in provincia di Viterbo, ossia qui a due passi perché io sto proprio al confine tra la provincia di Roma e quella di Viterbo, il problema è che non si può uscire dalla provincia, quindi dovrete accontentarvi di un'onesta prova nel giardino di casa mia. Ve li faccio vedere bene però, eh! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! In conclusione abbiamo due torce molto simili come pesi e ingombri, entrambe sembrano robuste e ben costruite, la TrueNight costa un po' di più ma è sensibilmente più luminosa. Vi ricordo ragazzi che le scarto oggi per la prima volta insieme a voi, quindi questo video è da considerarsi, più un unboxing che un test sul campo. Conosco però entrambi i brand e sono abbastanza confidente nel consigliarveli perché sono prodotti onesti dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Comunque mi riservo di farvele vedere in azione alla prima occasione, sicuramente le porterò a fare un po' di tombing, quello che io chiamo tombing, ossia l'esplorazione di tombe etrusche, cunicoli, gallerie, quello che faccio di solito quando vado a testare le torce. Spero di esservi stato utile ragazzi, in tal caso vi invito come al solito a lasciare un bel like a questo video, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella in modo che appena esce un nuovo video vi arriva subito la notifica e state sul pezzo. Spero di potervi portare con me in montagna al più presto, continuate a seguirmi perché appena sbloccano magari ci facciamo un bel pernotto. Un saluto ragazzi, state bene e ci vediamo ad un prossimo video. WowTac e TrueNight.